Sarà presentata stasera, lunedì 23 agosto 2021, alle ore 19, presso il Centro Sportivo Helios in San Marco di Castellabate, la conferenza stampa per l'ufficializzazione dell'accordo politico programmatico tra il gruppo civico del candidato a sindaco del Comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, e il gruppo Siamo Castellabate di Alessandro Lo Schiavo. Nell'occasione sarà presentato anche il simbolo che accompagnerà la campagna elettorale della nascente lista civica candidata alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021. Domenico Di Luccia, consigliere comunale indipendente, fino ad oggi è l'unico candidato a sindaco che ha ufficializzato già da mesi la sua candidatura nel Comune di Castellabate. Questa sera anche il consigliere comunale Alessandro Lo Schiavo si presenterà agli elettori stipulando l'accordo politico programmatico con il candidato a sindaco. Cilento Channel trasmetterà in diretta la conferenza stampa sul canale digitale Terrestre 636 e la pagina Facebook dell'emittente.